Benissimo, oggi riprenderemo il discorso della volta passata, parleremo del trasporto fuori radice, mi raccomando prendiamo appunti, aspetta, partiamo. Va bene ragazzi, ne parleremo la prossima volta, continueremo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi dissi donna e refulse il suo sorriso, come a mezzogiorno il sole, che vedendola mancavano le parole, ed amor il cuore intriso. Mi dissi donna ed ella fu come petalo di rosa, delicato, di rosso colore, viva nell'emozione, nel suo calore, creatura così divinamente preziosa. Ma un giorno mi dissi donna, e fu tuolo nera tempesta, poi pianto straziante, dolore, ed il mondo suo si tinse di quel colore, d'un tratto fu oblio nella sua testa. Da allora, dicendo donna, mi parvi addormentato, mi parvi addormentato, mi parvi addormentato, il cuore. No. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.